Allora Ludovica vorrei partire dal personaggio di Angela perché insieme a quello di Roberto mi sembra l'unico che va alla ricerca di una verità, una verità che ha sfilacciato i legami della sua famiglia e ha rovinato poi la vita di Walter. Io in lei ho visto una speranza, per te lei cosa rappresenta? Sì, simbolicamente anche per me rappresenta un principio di verità, dell'andare oltre tutti i pregiudizi e soprattutto di ricerca, di perché no, di una verità nascosta che è sempre stata messa sotto la sabbia, anche a livello generale, dico ora il mio personaggio lo porta avanti come tema, però in generale crea un'ottima riflessione su questo tema, cioè su quanto poi effettivamente dovremmo dare molto peso e molta più attenzione ad andare oltre le apparenze, oltre i pregiudizi, a scovare delle verità più scomode magari. La verità in questo caso è sempre stata dentro di lei doveva semplicemente un attimo mettere a fuoco ed eliminare tutte le manipolazioni che ci sono state nel corso di questi anni da parte delle parole della madre, perché comunque tendenzialmente tendi a fidarti ciecamente quasi dei genitori, soprattutto a quell'età e nel corso della crescita, e quindi invece mettere in discussione questo elemento è un grande atto di coraggio che dovremmo fare tutti, ovvero cercare sempre la verità ad ogni costo, anche compromettendo dei legami familiari a volte o comunque mettendo in discussione delle verità dette in questo caso per esempio dalla propria madre. Grazie. Silvio, invece c'è una frase del tuo personaggio che mi ha colpito moltissimo, sono qui per insegnarvi a cercare la verità. E tu nel film sei anche cosceneggiatore dal New England, portate questa storia a Forte dei Marmi. Qual è stato l'elemento centrale che avete cercato di preservare nel trasportare, nel trascrivere appunto questa storia dal New England alla piccola comunità di Forte dei Marmi? Sono molto contento che hai colto proprio quella frase, perché per me quella è stata forse proprio la chiave con cui sono entrato dentro Stefano, con cui ho potuto comprendere meglio Stefano e che mi ha dato la misura del bagaglio che io volevo trasportare, come sceneggiatore anche nel lavoro che ho fatto con Peter, nell'adattamento dal romanzo al film. È chiaro che l'ambiguità è ciò che secondo me definisce quasi tutti i personaggi di questo film. Il loro oscillare tra qualità morali veramente riprovevoli invece ha anche capacità di amare, voglio dire il personaggio di Angela è un personaggio che porta purezza e il mio personaggio, quello di Stefano, è un personaggio totalmente invece assorto, totalmente da se stesso, così narcisista, quindi così innamorato di se stesso, però divorato dal buio e vede in Angela un raggio di sole dal quale lui si lascia completamente stregare. Tutto questo perché ha a che fare con quella frase? Perché se il filo rosso che lega tutti i personaggi in questo film, come dici te, è la ricerca della verità, Stefano, il professore, è forse il manipolatore della verità per eccellenza. E come tutti i manipolatori della verità, cioè come colui che in realtà pensa e crede che la verità sia qualcosa che si possa modellare, che si possa adattare, che si possa nascondere, celare, raccontare, tutto dipende da come tu racconti la vita agli altri, questo è quello che lui fondamentalmente insegna ai tre alunni, in realtà è, anziché essere come uno si aspetterebbe, il mastermind, cioè l'uomo che appunto trae forza da questa idea, in realtà è il più debole di tutti, è vittima di questa cosa perché lui non è più in grado di rapportarsi alla verità reale, lui ha una crisi di identità enorme, è un uomo così abituato a raccontarsela la verità che non è minimamente capace di guardarsi allo specchio per quello che è. Ecco, quindi in qualche modo questo era il bagaglio che io volevo portare dentro questa storia come attore e come sceneggiatore, cioè un personaggio così teatrale e fragile al tempo stesso. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie a te. Grazie, ciao. Ciao.